Chiudiamo l'anno come ormai di consueto fare, lavorando e soprattutto con provvedimenti importanti per la città. La grande novità di fine anno non è semplicemente Elodie in piazza teatro, quanto piuttosto il rifacimento di piazza Colbe. Stiamo approvando in giunta il progetto definitivo per il rifacimento di piazza Colbe, più o meno circa 100.000 euro, peraltro tutti finanziati con i proventi dalle multe, quelle che in tanti dico che noi non facciamo, invece ne abbiamo fatte talmente tante che ci possiamo permettere a fine anno anche di rifare finalmente una piazza di questa città abbandonata per troppi anni. Un bel progetto per chi non abbattiamo neanche mezzo albero, al contrario, creiamo delle aiuole in modo tale da inglobare quelle radici che ormai hanno portato via gran parte della pavimentazione esistente in grandi aiuole, rifacciamo una piazza, la restituiamo, innanzitutto la dignità di un quartiere, ma lasciatemelo dire, di un'intera città. Domani saremo qui perché pubblicheremo la gara in tempi record, la vogliamo realizzare il più presto possibile, beh, che dirvi, è il nostro modo per augurarvi buon fine anno, perché l'inizio dell'anno ve lo augureremo in piazza teatro. Vi aspettiamo tutti, ci divertiremo, la presenza di Elodie non farà altro che renderla ancora più spumeggiante, nel frattempo con noi continueremo a lavorare per la città.